NAC, grande supporto per prevenire il danno cellulare e migliorare la funzione immunitaria, ma non solo. Io sono Patrizia Landini, giornalista e divulgatrice di Salute Benessere. La NAC è utilizzata per prevenire o trattare le malattie respiratorie, tra cui la bronchite cronica e la fibrosi cistica. Su modelli sperimentali si evince che la NAC migliora la capacità contrattile del miocardio, riducendo al contempo l'aggregazione piastrinica e limita il rischio di eventuali complicanze tromboemboliche. Anche cervello e udito possono beneficiare di questo potente antiossidante. Infatti, oltre alla capacità di rigenerare il glutatione, uno dei più importanti antiossidanti a disposizione dell'organismo umano, la N-acetilcisteina, si è dimostrata efficace per preservare la vitalità dei neuroni, correggendo alcuni deficit mnemonici. Scopri Grazie a tutti i nostri spettatori